Ciao a tutti, io sono Federica, ho 29 anni, insegno italiano agli stranieri alla K-Language School. Il mio lavoro mi piace tantissimo perché mi permette di entrare in contatto con persone di diverse culture e inoltre anch'io imparo tantissimo dei miei studenti. Se posso darvi un consiglio su come migliorare il vostro livello di lingua italiana, potete leggere ricette in italiano e cucinate piatti italiani. A presto!